Sono il detective Elliot e lui è l'agente Wagner. Vogliamo solo farvi qualche domanda. Sappiamo che la notte del decesso di vostro padre, la famiglia si era riunita per festeggiare i suoi 85 anni. Com'è andata la... La festa? Prima che papà morisse? Oh, alla grande? Signore e signori, devo chiedervi di restare tutti qui sul posto finché le indagini non verranno concluse. Cosa? Posso chiedere perché? È cambiato qualcosa? No. No, non possiamo chiedere o no, non è cambiato? Lei pensa che l'abbia ucciso uno della famiglia. È questo che sta insinuando. Voi amate rigirare il coltello nella piega dell'altro? Vaffanculo. Ah, molto elegante, davvero. Sei proprio il signore, brutto idiota. Vediamo. Fanculo, 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 fanculo. Indubbiamente va a fanculo. Wow! Tu sai qualcosa. Parla. Io sospetto si tratti di omicidio. E non ho eliminato nessun sospettato. È un'intricata ragnatela. E non abbiamo finito di scioglierla, non ancora. Ma cos'è? È una scena di CSI? È una scena di scioglierla.